Amore, passione, divertimento. Lo sport è tutto questo e TheSpar vuole aiutare tanti piccoli atleti. Dal 28 aprile al 3 luglio 2016, nei supermercati TheSpar, Eurospar, Interspar, vince lo sport. Fai iscrivere la tua squadra o la tua scuola e partecipa alla raccolta punti. Ogni 20 euro di spesa riceverai un bollino da collezionare. In premio, tante attrezzature e abbigliamento sportivo per la tua squadra o per la tua scuola. TheSpar, Eurospar, Interspar, il nostro meglio per tutti.